Ragazzuoli se volete potete supportarmi su Fortnite nella posita sezione supporto un creatore con il codice free trattino gaming con il 3 al posto della prima e e ogni vostro prossimo acquisto supporterà anche il mio canale. Tutto il ricavato verrà utilizzato per fare dei giveaway e dei contest in live sempre sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video ragazzuoli. Allora innanzitutto andiamo a vedere il negozio oggetti come al solito hanno rimesso il cavaliere rosso è la ventesima volta che me lo mettete a distanza di poco tempo perché sta cosa perché lo so vabbè ok se volete cavaliere rosso potete acquistarla di nuovo. Ipernova io non lo so me lo ricordo è nuovo c'è scritto nuovo quindi probabilmente è nuovo io mi ricordo una cosa simile e va bene è carino me lo costa neanche troppo non è malvagio sto costruito forse un po' troppo. Appariscente con sta arancione però non è malvagio no questo non mi piace hanno messo questo con la chitarra che è uno set volume a 11. Oddio volume a 11 aspetta perché c'è una canzone di max pezzali che si chiama così che fa sempre col volume a 11 non so se l'hanno presa da lì sarebbe fighissimo l'avessero fatto. Capoeira poi c'è l'elicottero però non mi piace troppo incasinato rivolta se la parte 7 volume a 11 e poi c'è il milite che è boh figo se secondo me queste sono skin fighe un botto. Comunque ragazzuoli come al solito se volete potete supportarmi come creatore come dice la intro free trattino gaming e potete se volete potete taggarmi su instagram emiliano.mari con l'immagine dello shop in cui riportate appunto che io sono come creatore. Vi riposto tutti come vi pare se mi taggate in un post e vi metto mi piace riposto pure quello così si fa per creare un po' più di unione tra il gruppo perché dobbiamo essere coesi tutti insieme. Boni state boni io devo dire un'altra cosa poi partiamo col video. Esce il patch review e no cioè lo faccio io ok esce la patch io faccio il patch review notizie infatti la x segna il punto per l'usare all'isola in cerca di bottino con il nuovo oggetto tesoro sepposto. Ah regà prepariamoci un'altra infinity blade secondo me non lo so che cosa sarà sta roba però sarà figo io sicuramente faremo il patch review per andare a fare sta cosa non vedo l'ora non vedo fottutamente l'ora di far sta roba. Presto disponibile oggi note della patch patch not vabbè la 8 punto vabbè la 8 questa l'abbiamo già vista la season 8 uscirà la nuova patch uscirà la nuova patch tra pochissimo non so che ora dovrebbe uscire in verità non ricordo. Però in tutti i casi quando uscirà noi saremo pronti per fare il patch review insomma abbiamo divagato abbastanza ragazzuoli oggi che cosa andiamo a fare c'è un'isola segreta su fortnite e non è clickbait tra l'altro quindi preparatevi preparatevi a lasciare mi piace ragazzuoli perché c'è un'isola la segreta in cui nessuno non so se in italia già c'è stato qualcuno però in tutti i casi io la so sta roba la andiamo a fare oggi è un'isola particolare strana non so per quale motivo l'hanno messa non so ancora non ci sono mai stato ancora perché aspettavo voi l'ho vista so come ci si arriva ma non l'ho mai vista la volevo vedere appunto insieme a voi. Allora ragazzuoli parco giochi pronti per andare a fare questa roba. Siamoci qua ragazzuoli on the corner e andiamo verso parco pacifico dobbiamo prendere la frattura per parco pacifico. Non parco pacifico parco pacifico pronti vai e dovete rimanere in volo quindi aprite subito il paraguagato come pochi. Oh my oh my what ma la vedete oh ma what the fuck ma che cos'è è un'isola e ci stiamo andando ragazzuoli quindi sarà un viaggio abbastanza lungo vi ripeto perché calcolate che stiamo cioè ci vuole un po' per arrivare là è un'isola sabbiosa non so per quale motivo abbiano messo sta roba là tipo che vogliono fare narci non lo so vi giuro non ne ho la più palida idea però noi piano piano ci andiamo ci arriveremo. Probabilmente riusciamo ad arrivarci anche col deltaplano così tranquillamente non lo so se la se la posizione è abbastanza corretta in tutti i casi siamo già fuori dalla mappa di fortnite come potete ben vedere e stiamo dirigendoci là. Qualcuno di voi si era già accorto della presenza di questa isola non so se ci sono barriere non ci dovrebbero essere barriere dovrebbe essere tranquillamente arrivo potremo tranquillamente arrivare in questa zona. E poi mi direte voi che zona è di fortnite perché tanto lo avete già capito incredibile perché poi potremmo fare cose fighe tra l'altro possiamo andare a esplorare una parte di fortnite la zona di fortnite. Che non abbiamo mai esplorato perché comunque questa zona è nuova e sapete che non si può uscire pertanto ragazzi ci siamo oh my god siamo arrivati ok c'è il muro c'è il muro e non ti fan passare però trovo il modo di passare io sicuramente perché se io faccio così vedete. No non riesco a passare lo stesso vediamo vediamo ok sì qui posso passare adesso wow eccola la barriera si passa sotto ce l'ho fatta no no mi hanno bloccato eh ma io io entro un modo per entrare lo trovo e infatti eccolo qua siamo dentro l'isola finalmente dentro l'isola senza limitazioni in cui possiamo costruire possiamo fare quello che ci pare. Hanno messo delle barriere extra effettivamente in cui io non riesco a passare non riesco a entrare vedete qui neanche posso distruggere niente hanno messo ste barriere però comunque la zona è particolare è figa eh ma non credo di riuscire ad entrare a intrufolarmi più che altro dentro sta zona forse con dei materiali sarei dovuto venire qua sarebbe stato più carino sicuramente. Se mi dovessi rigenerare vediamo un po' eh frio ha tolto il disturbo vediamo semplicemente che cosa ci dicono ok però eh no devo ok sono qua vicino sono qua vicino però mi fanno. Per noi stavamo praticamente da quest'altra parte stiamo un po' rinno dall'altra parte della barriera zona in cui non si può arrivare tra l'altro bisogna per forza fare così. Vedete c'è la barriera noi stavamo di là infatti si vede tranquillamente la l'isola cioè figata cazzo ragazzuoli cioè è assurdo. Ehm ogni tanto sfasano not bad not bad sarebbe carino qua mettessero anche la zona di diciamo per andare in creativo sarebbe carino qualcosa hanno messo anche un bus lì. Qui si può girare ok qua non mi ci fanno andare. Raga la mia missione sarà arrivare là dentro. E perché non mi ci fanno andare sono curioso che cazzo c'è sarà lì dentro che non ti ci fanno arrivare. Neanche qua ok ragazzuoli abbiamo una new mission. Ci facciamo una scala alta il più possibile. Entriamo di arrivare i più alti possibile e poi soprattutto non dobbiamo non dobbiamo desistere cioè dobbiamo arrivare al limite al massimo di altezza perché poi ci dobbiamo buttare dato che non abbiamo a disposizione una frattura. Poi dobbiamo scendere giù rifullarci di materiali fondamentale perché deve arrivare là con i materiali full. Che già abbiamo fatto una bella scala calcolate. Ora non c'è nessuno che ce la può spaccare pertanto non sono andato a fare chissà cosa. Adesso qua loro non ci faranno più costruire tra poco. No non è rimasto al limite non lo so. Wow quanto posso andare avanti a costruire pensavo ci fosse un limite. Ecco ok è arrivato il limite. Ecco posso costruire e posso riandare su. No ho raggiunto proprio il limite veramente serious. Cioè si vado di qua assurdo. Ok abbiamo raggiunto il limite di costruzione e da qui ci butteremo. Ok ragazzuoli. Full di materiali. Abbiamo 500, 500, 500 quindi 1500. Stiamo rifacendo tutta la scala per salire. Guardate è altissima. Figgata no? Non pensavo si potesse fare una scala così alta. Va bene. E adesso andremo verso questa isola. Nella speranza di non morire. Io non so se ci arriviamo o non ci arriviamo. Che succede? Che non succede? Siamo un po' bassi effettivamente è vero. Però nell'acqua in cui dovremmo arrivare noi quell'acqua lì celestina non si muore per danno. Cioè non è che affoghiamo. Pertanto dovremmo forse... Eh ma siamo bassi un botto. Serve una frattura raga non ci sono cazzo. Da lì dobbiamo prendere una frattura. Eh ma per forza. Perché comunque ti butti ma sei troppo basso. Quindi serve una frattura portatile. Per arrivare là. Perché vedete quanto siamo bassi? Non ce la facciamo con i materiali qua. Ci serve una frattura portatile. Eh uh siamo all'esame bassissimi. Abbiamo lendato malissimo. Guardate voi. Però con una frattura portatile forse ce la facciamo. Perché arriviamo più alti. Eh ci mancano quei metri e basta. Infatti. Infatti ci mancano pochi metri e ce la facciamo. Ora adesso noi dovremmo respawnare qua. Infatti. Però siamo. Anza mazzo. Inutile. Inutile dirvi che non è servito a nulla. Ora. Per i po... Eh io perché devo fare tutto il giro da sotto. È un casino. Sarebbe figo provare a riuscire ad arrivare con i mazzo. Perché qui devi semplicemente... Non è difficile fare sta roba. Possiamo lendare qua. Le barriere si superano facilmente. Vi mettete sotto. Hop. Passate la prima barriera. So ce ne sarà un'altra qua. Passate sempre sotto. E via. Siete a posto. Le hanno fatte male queste barriere. Non arrivano sotto l'acqua. Quindi voi potete tranquillamente abbassarvi così e passare le barriere. Però poi non avete materiali. E non possiamo costruire. L'unica cosa che mi viene in mente è... Sì necessariamente si possono mettere. Guarda vediamo eh. Torna al centro. Voglio vedere l'unica cosa. Se posso modificare delle impostazioni. Per cui non perdo materiali quando cado. Adesso vado a verificare. Ok ragazzuoli. Eccoci qua. Ci siamo eh. Siamo pronti e carichi. Abbiamo circa 1500 materiali. Ci buttiamo sotto. Passiamo alle barriere. Non so se questa la riusciamo a passare da qua. Si è più easy. Però non mi fanno costruire. Ah ok. Non mi fa neanche salire da qua. Devo fare un altro giro. Non può stare necessariamente da qui. Vabbè. Oh dai eh. Ok. Raga mi sono sbuggatissimo. Mi sono sbuggato. Mi sono sbuggato. Ok. Con calma. Dai. Raga ma prima... Oh funzionava. Siamo riusciti. L'abbiamo fatto prima. What the fuck. Proviamo a passare di qua. Ma perché sta cosa? Oh mio dio. Raga. Siete se... Ok. Grazie. E vedete non mi fanno costruire. No non c'è verso. No non ti fanno costruire. Vabbè. Dobbiamo trovare un modo. Per attaccare. Eh ma come cazzo costruiamo? Ah raga è difficile. È difficile. È veramente veramente complicato. Non si può... No no no. Sì! Boni fermi tutti. Assurdo. Bello. Ok. Stiamo andando. Ok. C'è una barriera qui allora. che non mi fa fare niente. Allora. Vediamo un po' eh. Come riusciamo a muoverci. Ah ok. Qui c'è una barriera che mi ferma. Però io posso costruire anche in questa... Niente. Mi ferma la barriera. Andiamo di qua. Ok. Così posso andare. Anche qui vengo fermato. Qui io posso costruire. Vedo che posso costruire. Però c'è la barriera che mi ferma. Quindi non posso fare nulla. Proviamo ad arrivarci. Ah. Addirittura è su. What the fuck. No non me lo fa fare qui. Proviamo ad allontanarci un po'. Vediamo eh. Devo andare sopra sta parte di barriera. No 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 no. C'è proprio. Sta barriera che sta so. Cioè è incredibile che ci sia un blocco qua. Vediamo se riusciamo a passarlo. Allora. Ho capito un po' come funziona sta roba. E è un problema. Oggettivamente problematico. Perché io non riesco a fare nulla. Se non questa roba che sto facendo qua. Io tentare di arrivare sopra la barriera. Ma non. Ok no. Niente. Vedete poi mi blocco. E devo ripartire da capo. Quindi ripartiamo. Riendiamo sopra. Sto tentando di arrivare in cima. Eh ma purtroppo non c'è verso. Ragazzoli. Sopra la barriera. Non ci si riesce ad andare. Ti fermi. Ti fermi qui e non ti fanno più salire. Poi non posso più salire. Ho finito i materiali poi tra l'altro. Ho fatto tutte ste cazzo di torri. Sta cosa. Non è servito a nulla. E perché poi vedete. Mi blocco. E mi devo. Mi blocco proprio fino a che. Fa tutta sta salita. L'ho provata tutti ragazzi. C'è stato verso. Va bene. Continueremo. Ci riproveremo ragazzoli. A entrare dentro quest'isola. Non ci arrendiamo così. Tanto qualche cosa. Dovremmo riuscire a farla lo stesso. Io vi ringrazio tantissimo. Per la visione. Vi ricordo lasciare mi piace. Se il video è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Di sicurimi su Instagram. Emiliano.mari. Se volete. Potete supportarmi come creatore. Taggarmi nelle storie. Mostrando la shop. Noi siamo qual solito. A un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.